Appena finito il Gran Premio di Argentina e dunque il Racing Podcast serale per parlare del secondo appuntamento di questo campionato del Moto Mondiale 2023, secondo appuntamento in realtà anche per quanto riguarda il Racing Podcast perché alle 13 è uscito quello sulla Formula 1 GP di Australia e adesso dalle 4 ci trasferiamo alle due ruote per parlare del Gran Premio di Argentina in seconda serata per celebrare la tappa e maglia di Marco Bezzecchi, pilota di Rimini che per la prima volta in carriera vince in MotoGP. In una gara a Termas del Riondo che è stata condizionata dalle condizioni meteo perché parliamo di pista bagnata non solo per la MotoGP ma anche per Moto2 e Moto3 ma sappiamo che Bezzecchi in queste condizioni spesso si esalta e così ha fatto, prima vittoria di carriera per il 24enne in MotoGP, una gara letteralmente dominata, una grande partenza dopo aver sfruttato l'all shot in curva 1 e poi dopo che ha preso la testa Bezzecchi non l'ha di fatto più lasciata. Il massimo vantaggio accumulato dal pilota di Rimini è stato addirittura di 8 secondi, alla fine il vantaggio sfruttato sarà relativo perché negli ultimi tre giri Bezzecchi ha di fatto amministrato, Bezzecchi di fatto poteva guidare tranquillamente col caffè e il gomito di fuori e nessuno l'avrebbe preso più. Una gara letteralmente dominata e dunque prima vittoria in carriera per il pilota del team Muni VR46 per una Ducati che effettivamente arrivava con tante credenziali a questa gara ma non evidentemente con Marco Bezzecchi. Però in queste condizioni sappiamo bene come il pilota con la carriera numero 72 si è sempre trovato bene, ha infatti qualche prestazione di rilievo l'ha sempre fatta nelle categorie superiori. La Ducati che è mancata in realtà è quella ufficiale perché arriva un episodio un po' sgradevole che è la caduta evidentemente di Francesco Bagnaia. Sapete come io sono tifoso della Ducati ufficiale, in particolare Bagnaia per un errore di sufficienza mi verrebbe da dire, butta via un podio praticamente certo al tornantino prima dell'ultima curva del circuito di Termas del Riondo. Perde l'anteriore in un'entrata in curva 70 all'ora e di fatto si adagia per le terre di fatto abdicando la leadership del mondiale che aveva salda evidentemente fino alla gara sprint del sabato pomeriggio. E' una Ducati ufficiale che comunque aveva modo e avrà modo di riscattarsi nelle prossime gare, certo spero non sia stato più un errore di foga di Bagnaia rispetto magari a un errore veniale. E' vero che comunque quel punto in particolare per Ducati ufficiale è sempre stato abbastanza nefasto, noi ci ricordiamo evidentemente come negli anni passati anche Iannone Dovizioso vennero a contatto in un punto poco più avanti. L'ultima storia dell'Argentina insomma non dice benissimo alla Ducati ufficiale, qui mi sembra proprio un errore un po' veniale, nel senso che evidentemente non si poteva andare a raggiungere Bezzecchi che avrebbe fatto una gara incredibile. Doveva gestire il secondo posto, gli errori capitano a tutti, soprattutto su pista bagnata. Speriamo che non sia evidentemente il primo di una lunga serie perché evidentemente in un campionato così lungo, con così tante gare, compresa la folle gara sprint, evidentemente gli errori si pagano. E qui l'errore di Bagnaia è evidente perché appunto per quanto sia molto presto Bagnaia di fatto perde la legge del campionato del mondo. Per un podio che comunque per Ducati ha di che comunque sorridere perché è vero che vincono Ducati clienti, quella di Bezzecchi, sul podio c'è una seconda Ducati clienti, seppur semi ufficiale, quella del team Prama che è quella di Johan Zarco. Perché dico semi ufficiale? Perché parliamo appunto di un team clienti che ha appunto la moto di quest'anno. A differenza di chi è arrivato terzo che è senza dubbio la più grande sorpresa di questa gara dell'Argentina, ovvero Alex Marquez che fa una gara suntuosa, una gara nelle sue condizioni, anche Marquez, i podi che ha fatto in MotoGP, i due che ha fatto nella carriera, sono dovuti prevalentemente a condizioni di questo tipo. Mi ricordo distintamente il podio di Le Mans nelle condizioni medesime di Argentina e alla fine la Ducati, anziché appunto averne uno ufficiale, di fatto ha tre motoclienti sul podio. Qualcosa di inenarrabile, io francamente da quanto seguo il motociclismo e l'automobilismo non mi ricordo, soprattutto nel motociclismo, tre team clienti che andassero totalmente a podio. Comunque segno che evidentemente i piloti fanno tanto la differenza e lo abbiamo visto in questo contesto. Bezzecchi appunto vince la prima volta in carriera e per lui suona il nostro nazionale, il canto degli italiani, per Zarco è il podio del riscatto, Zarco tutte le volte è impredicato di fare molto bene e di vincere la gara di MotoGP. In questo caso non ce l'aveva ma ha avuto la ragione di Alex Marquez che partiva dalla pole position e ha fatto comunque una gara molto interessante, perché nella gara sprint che è stato sull'asciutto ha fatto un po' la gara del gambero, ma comunque è arrivato agilmente sesto. Nella gara invece con le sue condizioni ha dimostrato di essere un pilota che in questo contesto ci può stare e mi ha fatto ricredere, lo dico senza grossi problemi, sapete come Alex Marquez non sia dei miei piloti preferiti, ma bisogna dare atto ad Alex Marquez di quello che ha fatto. E quindi grandiosa gara del pilota con la carriera numero 63, secondo me evidentemente uno dei rider of the day a mani basse, anche se in realtà uno dei rider of the day che dovrei dare è secondo me chi è arrivato quarto, perché in proporzione il quarto posto di Franco Morbidelli è qualcosa di clamoroso, perché sappiamo come Morbidelli abbia avuto delle grandissime difficoltà negli scorsi anni, soprattutto l'anno scorso, in generale tutta la Yamaha, Yamaha che è ridotta al lumicino con due sole moto e alla fine Morbidelli riscatta evidentemente un periodo buio facendo una grandiosa quarta posizione, poteva anche giocarsi il podio, alla fine però deve cedere a Zarco e ad Alex Marquez, comunque la soddisfazione di battere Fabio Quartarò sempre più in crisi con la stessa moto. E' stata una gara di Argentina in realtà, che potremmo definire un po' come quella di Melbourne, un'ecatombe perché per vari motivi, un po' dovuti alla folle gara sprint di Portimao che ne ha confermato la pericolosità in questo contesto, evidentemente un po' per l'infortunio di Mir sempre in questa gara sprint dell'Argentina, abbiamo avuto solo 17 piloti al via e non i 22 canonici, quindi evidentemente a momenti bastava partire per la zona punti, fatto sta che comunque la gara di Argentina ha celebrato una Ducati veramente sul pezzo, non solo per il numero di moto che ha, ma perché riesce a piazzare tanti piloti diversi sul podio, segno che comunque il talento evidentemente non è un'opinione. Chi delude secondo me è l'altra Yamaha, quella di Fabio Quartarò, diamo subito i premi in questo caso perché appunto se dall'altra parte Franco Morbidelli è per me il rider of the day, la delusione del giorno è appunto Quartarò perché se la Yamaha evidentemente si è trovata discretamente in questo contesto, abbiamo visto con Morbidelli sulla carta pilota inferiore a questo Quartarò, la crisi del francese sembra molto più accentuata e molto più grave del previsto perché comunque è vero che comunque la Yamaha è inferiore a questo Ducati, ma Quartarò ha sempre dimostrato di metterci una pezza e di guidare sopra i problemi di questa moto, cosa che invece non è evidentemente successa. Vedremo se ci sarà modo di riscattarsi nella prossima gara per il francese di Nizza, già tra due settimane, a Austin, Texas. Gli altri piazzamenti, velocemente prima di arrivare alle altre categorie, Jorge Martin finisce quinto in una gara in rimonta, sesto Jack Miller, probabilmente una delle vere rivelazioni di queste prime due gare con la KTM che comunque ha avuto il modo di togliere su una situazione importante, quella di vincere la sprint race con Brad Binder che partiva quindicesimo ed è arrivato primo, ottavo Luca Marini con l'alto educato del team VR46, nono Alex Rins con di fatto la prima delle uniche due onde in gara e chiude la top 10, Fabio Di Gianno Antonio per un team che è assolutamente sul pezzo, tutti gli altri piloti di fatto sono arrivati a punti tranne appunto Bagnaia e Binder che sono accaduti durante la gara lunga e di conseguenza parlare di altri piazzamenti è abbastanza platonico per un'altra classifica, quella del campionato del mondo che vede la seguente appunto graduatoria con Bezzecchi che di fatto su quattro gare, perché parliamo di due sprint e due gare lunghe, fa 50 punti, Bagnaia ne fa 41, Zarco è terzo con 35, Alex Marquez con un grandioso weekend argentina è quarto a 33 e quinto è Maverick Vignales a 32, ecco l'Apriglia probabilmente delle moto di top è evidentemente mancata, è evidente però che forse in queste condizioni di bagnato la formazione di Noale non poteva forse reggere di più, perché abbiamo visto come altri piloti in questo contesto si esaltavano di più rispetto ad Espargarò e a Vignales, vedremo comunque se ci sarà modo di cambiare questi valori in campo, se si confermeranno appunto da due settimane a Austin Texas dove appunto correranno anche Moto2 e Moto3 di cui andiamo velocemente a parlare, questa è la classifica della Moto2 al termine della gara di Argentina e c'è un'altra situazione per quanto riguarda l'Italia perché vince Tony Arbolino, anche per lui suona il canto degli italiani e come per Bezzecchi, tappe maglia per i poteri garbagnati milanese, 41 punti per il numero 14 del team Mark VDS che alla fine ha ragione dei suoi diretti avversari, in particolare Alunso Lopez, il pilota spagnolo del team Bosco Scuro che partiva dalla pole position e probabilmente avrebbe vinto se non avesse fatto qualche errorino qui e lì, ma è stato bravissimo Arbolino nel filiale di gara ad avere la meglio del pilota spagnolo e terzo invece è Jake Dixon, pilota britannico, anche lui specialista della pioggia, grandissima prestazione del pilota del team Gas Gas, quarto assoluto in questo campionato del mondo, al momento l'unica delusione che mi verrebbe da dire in questa gara è Pedro Acosta che era arrivato con i crismi del talento puro del fenomeno, ha vinto giustamente a Portimao una gara dominata e qui invece fa dodicesimo, evidentemente il bagnato non è per il pilota con la carriera numero 37. Moto 3 e qui abbiamo un altro podio interessante perché torna la vittoria Tatsuki Suzuki, piatta giapponese del team Leopard per il quale suona il Kimi Gaiò e si issa al terzo posto assoluto di questa speciale classifica del campionato del mondo, secondo è Diogo Moreira al secondo podio consecutivo e di fatto a un'incollatura del leader del mondiale Daniel Olgado che dopo aver vinto a Portimao finisce quarto in Argentina, la grandiosa sorpresa in realtà è vedere Andrea Migno sul podio, Andrea Migno che non è stato chiamato inizialmente come pilota regolare, è stato chiamato in corsa per sostituire Lorenzo Fellona, il team Team Green Power e pronti via fa podio, anche lui in una condizione di bagnato, Migno sorprende veramente tutti e fa una grandissima gara, terza posizione assoluta e immediatamente sesto posto assoluto in questo campionato del mondo, una gara della Moto 3 che è stata comunque molto interessante, non così come la Moto 2 ma comunque è stato bello vedere lotta per di fatto 15 giri, alla fine Migno trova un podio insperato ed è di fatto il migliore dei nostri portacolori italiani per quanto riguarda una Moto 3 che appunto come le altre categorie tornerà in auge a Austin, Texas, questo dunque è il resoconto velocissimo delle tre categorie in questo recent post della seconda serata perché uscirà verosimilmente alle 10 di sera, vi lascio con la classifica della MotoGP con Marco Bezzecchi per la prima volta vincitore in questa categoria e per la prima volta in carriera lì da del mondiale, quantomeno in MotoGP, con Bagnaia che con una brutta caduta purtroppo perde le 10 del mondiale e va a 41 punti, per il resto sappiamo che la Ducati è l'Apriglia di fatto sulle moto da battere e vedremo se sarà così anche a Austin, Texas. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo a un prossimo video.